ciao ciao a tutti ciao dei camerette allora è la prima volta che faccio una cosa di questo tipo quindi sono un po un po stranito proviamo proviamo a raccontare una storia una storia interessante particolare e aiuto adesso vabbè insomma sistema è quello che è le competenze tecniche pure io non sono particolarmente capace come youtuber ma ma fa niente dunque dunque intanto dei camerette ringraziamo natalia per questa idea sono stato credo uno dei primi a a dare la mia disponibilità per partecipare a questa cosa molto carina e non so se poi ci ho messo un po magari a a farla diventa ad andare davvero in diretta la prima volta eccoci qua però effettivamente da subito ho voluto dare la mia disponibilità a natalia per questa cosa molto carina sono sto facendo quella cosa che dicono di fare di youtuber di chiacchierare un po a caso perdere tempo per per aspettare che un po di gente si connetta non lo so non so se questa cosa ha senso o meno comunque forse ha senso invece che che entri nell'argomento di cui voglio trattare effettivamente dunque ovviamente nel momento in cui si è deciso di fare questa cosa io ho pensato di parlare di musica e ho pensato di raccontare una storia una storia di musica in questo caso la storia di un personaggio specifico un personaggio molto interessante e abbastanza misconosciuto non particolarmente famoso se non in certi ambienti è una storia abbastanza come dire abbastanza circoscritta ma molto particolare molto interessante soprattutto una storia che per quanto non notissima in realtà ha rifrazioni anche più ampie di quello che che uno di quello che tutti sanno ho deciso appunto visto che questa è una diretta così frontale di di parlare e basta perché mettere musica diventava un po un po complesso come cosa e quindi di raccontare una storia cercare qualcuno con una storia particolare interessante e di cui si potesse soltanto raccontare e parlare e ho scelto di raccontare la storia muslim goes poi ora ve la racconto meglio intanto vi dico che per quanto non metteremo musica durante questa diretta ci sarà poi comunque una playlist spotify che ho già ho già preparato già 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 allestito su spotify molto molto ricca dove ci sono tanti brani che si possono ascoltare di di questo artista che ho selezionato da una discografia veramente enorme gigantesca e ho scelto perché ho scelto muslim goes perché è un personaggio che ha una intanto una qualità della sua produzione e anche importanza fondativa e essere avanti sui tempi devastanti e inoltre una storia incredibilmente particolare tra l'altro è una storia che io avevo già raccontato in un articolo qualche anno fa tre o quattro anni fa per una testata che non esiste più che si chiamava pixart thinking una testata molto bella per la quale abbiamo scritto in tanti per un periodo e che adesso non esiste più e tra l'altro tutto l'archivio di quella testata non è più non è più disponibile su internet quindi questa storia fondamentalmente quell'articolo che avevo scritto su questa storia non è più disponibile a me serve per avere un punto una base da cui partire per raccontare la storia ma è una storia che in questo momento non è particolarmente raccontata sull'internet quanto meno italiano e dunque che altro dire prima di addentrarci nella storia sto perdendo tempo perché tra l'altro non sono sicuro di riuscire a riempire mezz'ora con questa storia non sono sicuro di dei miei tempi e di quanto durerà questa cosa però ci proviamo insomma e vediamo sto pensando se partire o se lasciare ancora un attimo di tempo ah sì dunque io ho questo articolo che che avevo scritto e che adesso non è più online e ovviamente me lo tengo qui quindi se ogni tanto siccome non sono wikipedia e non mi ricordo tutto a memoria se ogni tanto mi vedete distratto che leggo da qualche parte eccetera sto sto copiando da lì un po come se mi stessi leggendo le date sulla mano durante un esame no e un'altra cosa che ho fatto è dunque muslingosa ha una discografia enorme e impossibile da catalogare completamente ho tanti suoi rischi soprattutto in cd mentre in lp soprattutto hanno cominciato a ristamparli più tardi c'è soprattutto il suo primo periodo più industrial che è stato ristampato molto da vinyl on demand mentre la sua etichetta più storica che è stalplat ha fatto soprattutto il cd io ho qualche decina di suoi album quasi tutti in cd pochi in vinile sarebbe stato carino farveli vedere ma purtroppo la situazione della mia casa rende impossibile trovare dischi a meno che non siano proprio quelli a portata di mano è assolutamente impossibile dire ah sì voglio quel disco aspetta che lo prendo no quindi ho lasciato perdere anche solo il tentativo e in compenso però soprattutto se a un certo punto dovessi trovarmi in difficoltà a riempire la mezz'ora con questa storia ci abbiamo un libro da cui a un certo punto potremmo prendere delle potremmo prendere delle citazioni o delle risorse o delle foto o delle cose insomma questo è muslim ghost chasing the shadow of brin jones che è appunto il nome di di questo di questo musicista geniale di cui direi che dopo aver perso quasi dieci minuti posso 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 cominciare a parlare effettivamente nello specifico dunque muslim ghost chi è questo chi era costui allora costui è morto nel 99 è morto il 14 gennaio del 99 e mi pare sia morto per le complicazioni di una polmonite e dunque lui era nato a manchester ed è nel 61 quindi è morto fatevi voi i vostri conti a meno di 40 anni insomma e la cosa particolare di questo musicista produttore eccetera che lui appunto nasce a manchester vive tutta la sua vita a manchester quasi senza proprio mai mai uscirne senza viaggiare senza fare niente e ha fatto soltanto una manciata di live nella sua vita di cui uno in giappone e lui fondamentalmente era un esponente della middle class inglese che viveva disoccupato che viveva con i suoi genitori e si era ricavato nella casa appunto in cui viveva con i suoi genitori uno studio ma dove produceva musica e fondamentalmente non faceva nient'altro nella vita conduceva una vita assolutamente da recluso in questa casa dove appunto abitava con i genitori senza avere pressoché relazioni umane più di tanto e registrando dischi su dischi su dischi su dischi su dischi su dischi su dischi a cadenza quotidiana era tutto quello che faceva e fondamentalmente nella vita ha pubblicato centinaia e centinaia di album venivano pubblicati da da piccole etichette in pochi esemplari nel disinteresse generale possiamo dire dal momento che non non era certo un personaggio famoso ma ma neanche di culto diciamo che il culto è arrivato dopo soprattutto dopo la morte finché finché è stato in vita la sua fama era veramente molto molto circoscritta determinati ambienti soprattutto quelli dell'industrial comunque una cosa molto interessante è soprattutto anche ricordo che non grazie a me ma grazie a mattia coletti che era l'editor di pixart thinking l'articolo che avevo scritto su di lui su muslim ghost si intitolava il medio oriente in una stanza perché perché appunto la grande ossessione di quest'uomo oltre a di quest'uomo brian jones di di appunto muslim ghost oltre a quella di fare musica era diciamo insensolato alla questione medio orientale il conflitto israelo palestinese e in generale tutto questo tipo di dinamiche era un uomo assolutamente ossessionato da questo e infatti tutta la sua musica pressoché aveva queste tematiche lui non era un cantautore era un produttore elettronico quindi la sua musica era musica era musica elettronica priva di test di testi se non magari delle cose campionate dei cori delle cose varie e queste queste scusate quindi come veniva dato un messaggio all'interno di quando fai musica mi sto perdendo per una cazzata tra l'altro quando fai musica strumentale attraverso che cosa puoi dare dei messaggi espliciti di quali sono le tematiche a cui ti interessa attraverso i titoli dei brani i titoli degli album le grafiche eccetera eccetera tutto questo era indirizzato a quel mondo le copertine gli artwork dei suoi dischi quasi sempre presentano armi donne velate kamikaze bambini soldato riferimenti alla guerra al terrorismo alcuni titoli famosi di sue opere sono fatua infidel islamofobia vote zbollah the rape of palestine submit to sharia eccetera eccetera questa era l'ossessione di questo uomo io ricordo che quando avevo studiato quando andavo all'università in quale non so in quale corso ci avevano parlato per parlarci dell'alienazione contemporanea in un mondo globalizzato ci avevano raccontato il caso di un camionista inglese che pur essendo pressoché isolato dal mondo era praticamente diventato un esperto di politica estera grazie all'ascolto di una serie di audiocassette e in generale ci sono tanti tanti gruppi che decidono di adottare i costumi di mondi completamente diversi da loro no e tra l'altro in anticipo sui tempi Brian Jones è rimasto ossessionato dal mondo islamico dal conflitto israelo palestinese e dal medio oriente e lui tra l'altro ovviamente non era mai andato là come vi dicevo era pressoché un recluso che viveva a manchester nel fondamentalmente nel seminterrato della casa dove abitava quei genitori peraltro neanche più di tanto consapevoli della sua carriera musicale non era un credente non era vicino alla religione nonostante lui avesse una una posizione molto forte ovviamente filo palestinese non era era affascinato indubbiamente da quel mondo ma non si può dire che fosse un vero e proprio sostenito cioè non non era non era credente non era interessato all'aspetto religioso più di tanto se non forse da un punto di vista soprattutto iconografico e artistico lui comunque usava tantissimo campionamenti e atmosfere e cose di questi mondi nella sua musica e era anche un personaggio un po un po strano cioè vabbè che fosse strano si è già capito direi anche per esempio aveva delle dinamiche complottistiche sul fatto che gli mentissero su sui riscontri della sua musica c'è simon krabb che ha pubblicato alcuni suoi dischi tipo body stone fire racconta che lui era ossessionato dall'idea che che lo stessero fregando cioè era stata venduta qualche copia dei suoi dischi che poi avevano finito per regalare essere regalati dall'etichetta e comunque lontanissimo anche solo dal ritorno dei costi e lui invece era certo che ne fossero state stampate migliaia e fossero state vendute di nascosto e secondo alcuni in realtà quello era il periodo della guerra del golfo e lui semplicemente siccome era quello di cui si parlava sui giornali non in modo differente da tanti esponenti del mondo industrial semplicemente quello era quello di cui parlare in quel momento se come tanti esponenti del mondo industrial volevi occuparti di cose più o meno forti e violente e scioccanti personaggio multisfaccettato si dice anche che fosse un conservatore destrozzo sostenitore della toucher quindi idee non chiarissime in generale lui stesso nella sua vita personale persona molto timida e non particolarmente interessata a parlare della propria musica come dicevamo la sua famiglia che praticamente lo vedeva solo a repasti perché per il resto stava chiuso nella sua stanza studio non aveva idea della portata della sua musica una portata che poi appunto come dicevamo è arrivata soprattutto dopo la morte perché finora quello di cui abbiamo detto potrebbe essere quasi uno strano ma vero una una curiosità no ma il fatto è che il contenuto della sua produzione in realtà è assolutamente geniale e incredibile questa è la cosa la cosa più importante ci sono stati alti e bassi ovviamente non tutti duecentomila dischi possono essere meravigliosi però lui è stato veramente soprattutto è stato un grandissimo anticipatore di quello che è stata la musica elettronica negli anni nella prima parte degli anni dieci diciamo ovunque si senta tecno ibridata con l'industrial un certo tipo di scurezze influenze arabe orientali sampling di quel tipo percussioni travallanti eccetera lì c'è l'ombra di muslim goats e di quindi di brin jones un paio di esempi assolutamente emblematici sono quello di sam shackleton che da partire da scaldisco e poi come shackleton uno dei più importanti e migliori musicisti elettronici degli anni 2000 che assolutamente consiglio di scoprire quando si sentono quelle ritmiche caratteristiche di shackleton secondo me ma anche determinati campionamenti non è possibile non pensare a muslim goats per non parlare poi del fortunato progetto vatican shadow di prurient che fondamentalmente è un omaggio a muslim goats cioè veramente il progetto vatican shadow stesso è di per se stesso una cosa che si rifà a muslim goats e nella sua musica la musica di muslim goats c'è stato un anche una oltre a una maestria nell'uso del campionamento una raffinatezza la musicalità un'aggressività un uso anche dello studio ci sono alcuni brani che poi sentirete nella playlist che ho che ho preparato e che allegheremo da qualche parte in cui veramente la profondità del suono tra l'altro molto casalingo eccetera è impressionante proprio a livello anche di sound design e la costruzione dei pezzi il modo di incorporare i sample la varietà degli elementi percussivi gli strati di basse le saturazioni il controllo che aveva sui suoni il il suo modo di ripetere le cose ossessivamente poi rompere le aspettative sono tutti aspetti che ovviamente vanno a creare un'ipnosi un coinvolgimento dei quali lui era maestro e e che hanno avuto un sacco di di influenza su su musiche successive tantissimi si sono ispirati a lui e e ve ne accorgerete nel momento in cui in cui ascoltate e invece non è facile tracciare a chi si ispirava a lui le uniche cose che sappiamo che ha dichiarato che che ascoltava che apprezzava sono brianino troppo ingristo il wire i can e fausto quindi pochi ma buoni indubbiamente ascoltava molta musica tradizionale giappone india e soprattutto medio oriente tutte fonti dalle quali traeva ispirazione e un sacco di campionamenti e adesso se vogliamo andare un po più nello specifico della sua discografia va detto che la sua discografia è appunto sterminata realizzava praticamente un disco a settimana per anni e anni e anni e anni si può dividere un po in fasi e periodi che ovviamente temporalmente a volte si mescolano si sovrappongono nello stesso anno magari ha pubblicato dischi che sembrano venire da epoche completamente diverse e tra l'altro alcune cose sono state anche poi non pubblicate all'inizio ma pubblicate successivamente post mortem quindi la discografia è gigantesca comunque se dovessimo tracciare un minimo di discografia possiamo parlare dei suoi primi capolavori che sono quelli in cui lui partiva da un retaggio molto industrial lui fondamentalmente veniva da lì come prima appunto citavamo troppo in cristola comunque un inglese di quegli anni quindi il mondo a cui faceva riferimento quello era industrial ovviamente però ibridato e quasi tutti questi dischi della fase industrial di muslim ghost sono stati ristampati da vinyl on demand in delle edizioni molto carine con queste copertine bianche con l'immagine in mezzo non so se sul libro sono riportate non so vediamo un attimo non me lo ricordo forse beh questa per esempio era la copertina di un disco perché appunto come dicevamo purtroppo appunto avendo tutti i dischi sparsi per il mondo non è facilissimo farveli vedere però tutte le copertine eccetera eccetera hanno tutte questo immaginario fortissimo legato alla guerra e al medio oriente e comunque appunto dicevamo i primi capolavori industrial sono per esempio body stone fire e flagelata che qualcuno ha definito un my life in the bush of ghosts più duro e tecno primitivista perché appunto fatto di mille campionamenti eccetera poi c'è haji che è un disco un po più minimale coop d'età che è scurissimo e abunidal che è uno dei primi ad aver essere andato anche già molto oltre con questa formula fatta di loop momenti ambient disturbi e tantissimo field recording quindi registrazioni di ambiente un camion che passa spari una donna che prega questa cosa qui negli anni 90 poi passa ad allargare ulteriormente i suoi orizzonti realizzando dei dischi sull'etichetta extreme sono dischi molto belli c'è per esempio zoom che è prodotto in maniera fantastica ed è anche piuttosto accessibile che entra proprio in contatto con l'elettronica propriamente detta in molte sfumatorie diverse non soltanto quelle più industrial del passato un altro disco di quella fase di quel tipo è united states of islam che è molto interessante e poi arrivano arriva il periodo con sole il moon e con stalplat come etichette e stalplat pubblica alcuni dei suoi lavori più interessanti in assoluto molta elettronica chiamiamola word non lo so e suggestioni cinematografiche anche tantissimo per esempio votezbollah che unisce all'elettronica una certa vena psichedelica o citadel che è bellissimo uno dei suoi lavori più belli è veiled sisters che è pressoché un fluzzo minimale ispirato anche all'india e qui siamo nell'ambito della drone music di atmosfera e anche return of black september che è forse il suo disco ambient più riuscito il postumo bagdad è quasi dub e a un certo punto c'è anche una sorta di hip hop rumoroso sempre soltanto a livello elettronico non è che ci sia proprio il rap e in album come Zurif Musa, Hussein Mahmood Jab Tehargas e Jab Al Dubla un disco di introduzione molto interessante è Narcotic che ha musica etnica tradizionale molto percussiva e poi ci sono anche dischi veramente non classificabili un capolavoro da questo punto di vista è Azazin che è appena stato ristampato tra l'altro che è fatto praticamente solo di ondulazioni di corrente sembra di stare sull'astronave di Alien uno in cui ritorna un po' all'industrial è Blue Mosk che è tra i suoi album più malati fatto di proprio intuizioni velocissime terrorismo sonoro o anche islamafobia che è super disturbante e frammentato continuano a uscire sue cose in continuazione e dicevamo se io dovessi proprio suggerire forse un album solo un posto d'onore oltre ad Azazina Wild Sister direi Mullah Said o Mullah Said chissà non saprei Mullah Said non ho mai pensato a come si pronunci comunque è il suo ultimo capolavoro forse tra quelli prodotti in vita datato 1998 è una suite etnoambientale fatta di percussioni, magia, claustrofobia un suono quasi tangibile arido, caldissimo e una specie di testamento perfetto per quello che è Musgum Goals nella playlist che ho fatto da questo album c'è Every Grain of Palestinian Sand ma un po' tutto il disco è molto bello siamo quasi arrivati alla fine pensate io credevo di dover di dovermi ammazzare per arrivarci inventarmi chissà che cosa in realtà in realtà è volato anzi ho dovuto arrivare a a velocizzare nel finale perché altrimenti questo era lui non voglio scassare il libro solo per farvelo vedere e vi faccio anche un paio di citazioni importanti alcuni dicono che lui era tutto sommato non si sa quanto fosse davvero coinvolto questa sua sessione e lui dichiarava la gente può ascoltare un pezzo leggere il titolo chiedersi a cosa faccia riferimento scoprirlo pensarci e studiare quella questione se poi la gente lo faccia o meno io non ne ho idea però lo spero secondo alcuni lui non era un grande fanatico meno di quanto sembrerebbe dalla sua musica quantomeno a livello personale e resta comunque un mistero il perché un tizio del class di Manchester abbia deciso di dedicare tutta la sua attività creativa intorno ai conflitti in Medio Oriente io vi ricordo che ci sarà una playlist vi invito ad ascoltare queste musiche incredibili fatte di elettronica sperimentale campionamenti Medio Oriente su suoni assurdi su suoni assurdi e chiudo con la frase con cui si chiudeva il mio articolo poi vi saluto perché siamo veramente alle strette probabilmente mentre in questa sua sovrapproduzione in questa ossessione consumava la sua vita e incidentalmente gettava la sua ombra sulle musiche elettroniche più all'avanguardia della prima metà degli anni dieci in qualche modo dai drammi di un popolo e di una zona del mondo riusciva a fare venire fuori se stesso i suoi problemi la sua personalità difficile e i suoi fantasmi questo era Muslim Goals raccontato molto male da Federico Sardo ciao grazie la prossima volta cercherò di fare meglio